e ben ragazzi bentornati in uno di first step to vape tutte le settimane pubblico video e recensioni ovviamente inerente lo svapo quindi se volete sempre rimanere aggiornati sull'ultima uscita dei liquidi atomizzatori box mi raccomando iscrivetevi al canale e qua in basso come sempre troverete anche tutti i miei social così per rimanere sempre in contatto con me e oggi parleremo del boogeyman ovvero l'ultimo liquido prodotto da g spot un caffè con caramello salato che mi va a ricordare un liquido veramente veramente vecchio pre tpd che è il non mi ricordo il nome comunque il barista dovrebbe essere che questo qua liquido che non mi piaceva assolutamente questo è un liquido abbastanza simile però vi posso dire che è molto molto più buono a mio parere ma prima di iniziare lasciate un like commentate qua in basso iscrivetevi che per me è molto importante allora sentiamo molto bene molto predominante la nota di caffè e allo stesso tempo comunque sentiamo una buona nota dolce che appunto ci va a ricordare il caramello allora a detta dei produttori che ringrazio comunque per avermi mandato questo liquido insieme a comunque anche tutta la linea che vi porterò tutti insieme in un video prossimo i test che fanno loro li fanno su un se non mi sbaglio su un profile con mesh abbastanza spinta quindi su una 015 in modo che il liquido è che sia ben ben spinto io mi sono fatto dei test sul kennedy mi sono fatto del test sul gun con resistenze sin con fili singoli con fili complessi insomma mi sono fatto più test vi dico rende bene se stiamo su una 020 con una resistenza complessa rende molto bene con bene le sfumature del liquido però per questo video ho scelto la force di vapor esso un kit veramente molto interessante che presto ve però sul canale e si narra essere indistruttibile per tutti quelli che mi vanno mi verranno poi a dire qua sotto a perché stai provando un liquido su una testina prefatta lo so ho fatti i miei test sto testando la box sto testando il liquido funziona bene allora come dicevo funziona bene sì il liquido è buono sentiamo molto pronominante la nota di caffè sentiamo comunque la stratificazione del liquido cosa vuol dire che sentiamo prima la nota ben presente di caffè e subito dopo la nota dolciastra perché comunque è un caffè con caramello salato la nota dolciastra un po amarognola che va appunto a contrastare la nota del caffè liquido molto ben strutturato che si divide in due fasi quindi caffè e caramello salato è molto molto buono sono due sapori semplici ma che si amalgono bene però è facile andare a sbagliare perché comunque stiamo parlando di due sapori abbastanza amari perché il caramello tende anche ad essere un po amaro e quindi andare a mischiare insieme riesca magari che una cozzaglia e che si sappia solo di bruciato sappia di amare insomma non è un gran che questo liquido è tutto il contrario si sente perfettamente al caffè una buona nota di caffè un filo dolce ma comunque una buona nota di caffè subito dopo la dolcezza e un po quell'amarognolo del caramello salato che va a contrastarsi bene e ad amalgamarsi al contempo molto bene con il caffè liquido secondo me molto ben riuscito che dire secondo me questo qua è un liquido veramente buono per il periodo che è quindi un liquido abbastanza caldo che si può svapare comunque continuamente non stufa quindi per me è assolutamente da avere se siete amanti del caffè e caramello stanno molto bene insieme quindi se siete propensi ad acquistarlo se avete qualche dubbio secondo me è da prendere vi dico ho visto gente ho sentito parlare di gente che l'ha svapato della guancia la guancia per me è assolutamente un no perché andiamo ad ammazzare completamente la nota del del caramello sentiamo solo il caffè e andiamo a perdere proprio il senso completo del liquido comunque vi dico che il liquido arriverà in quella boccetta contenente 20 ml arriverà anche il loro vg che dovrete andare ad aggiungere per un totale di 50 ml arriverà quindi 20 più 30 così che il liquido totale se lo svapate a zero potete comodamente svaparlo a 50 ml ma se avete esigenze di metterci dei booster potete comodamente portarlo 60 e portarvelo alla vostra graduazione preferita io ho detto tutto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ditemi cosa ne pensate di questo liquido per chi l'ha provato se volete acquistarlo o meno e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao ragazzi ciao ciao